Capitano, intanto in una squadra di provincia come il Bari il fatto che il capitano sia tatuato è un gesto di emancipazione o qualcuno ti ha detto qualcosa? No, io non mi ha detto niente nessuno. Eri già arrivato a tatuare? Sì, sono già arrivato a tatuare. Nessuno te l'ha contestato? No, no, nessuno me l'ha contestato. Che diavolo hai sulle provincia? Sono le iniziali dei nomi dai nipoti. Sì, ne ho tanti. E di la S di Sara, la N di Nicolas, la D di Davide, la F di Francesco, la M di Michael. I nipoti perché tu non hai figli? No, ne ho uno. Kevin. Infatti sto progettando l'altro braccio per lui. Non l'hai tatuato il nome del figlio? No, ne ho ancora. E' tua moglie? Si chiama Eleonora, è di Bergamo anche lei. Viene qui a vederle? Sì, è qua, vive qua con me, siamo tutti assieme. Come ti trovi a Bari? No, benissimo. Ormai quest'anno è il terzo anno che sono qua e mi trovo benissimo. Non ho nessun motivo per andar via, anzi. Ho molti motivi per restare. Tu lo sai che noi stiamo soffrendo parecchio perché siamo una grande comunità sportiva, ma vorremmo avere di più? Guarda, sono consapevole di questi momenti difficili per la società, per il popolo bianco-rosso. però credo che la squadra ce la sta mettendo tutta per dare sempre il massimo e spero che con i nostri risultati la gente capisca che noi abbiamo bisogno di loro lo stadio e quindi che ritornino numerosi. Tu in che ruolo giochi? Gioco da interno. Dopo mi è dato un po' da perdere. Interno che significa? Una volta c'era la mezzala destra, la mezzala sinistra. Destra o sinistra? Destra, prevalentemente. Il numero otto di una volta? Sì, dai, diciamo di sì. Sei più un marcatore che, come dire... No, sono di spinta. Ah, di spinta, interno di spinta, questa è la... Una volta. Interno di spinta, va bene. Riuscirete ad arrivare terzi o quarti quest'anno oppure... Il nostro obiettivo, innanzitutto, è cercare di far bene e salvarci. Però diciamo che nel profondo di ognuno il desiderio penso che ci sia e di vincere e di arrivare il più in alto possibile.